Certe volte veramente disarmante e lo voglio dire qui anche senza polemica, però una cosa vergognosa, una cosa vergognosa che gli impianti dei prati di Tivo in versione invernale, in versione estiva non debbano girare. Non usa mezzi termini il sindaco di Pietracamela dopo l'ennesimo colpo di scena riguardante gli impianti di risalita ai prati di Tivo. La situazione si è complicata dopo che il Tarabruzzo non ha concesso la sospensiva alla vendita degli impianti di risalita di proprietà dell'agli società Gran Sasso Terramano. La richiesta dal gestore temporaneo Marco Finori è che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e sospeso la sentenza del Tar fino all'udienza del 12 luglio. In fronte ai ricorsi della magistratura del Tar è tutto, c'è poco da fare, quindi dobbiamo soltanto aspettare, non posso esprimere idee, sono molto molto rammaricato, deluso, perché almeno in versione estiva pensavo che si aprissero gli impianti, invece l'ennesimo rinvio e tutto significa che questo territorio lo stiamo massacrando. La stagione estiva sul Gran Sasso Terramano è però di fatto iniziata. Il Rifugio Cima Alta e il Rifugio Franchetti sono tornati operativi dal 2 giugno, così come l'Adventure Park per bambini e adulti, oltre ad esserci grande entusiasmo per il concerto di Roberto Vecchioni il prossimo 8 luglio. Ci stiamo anche preoccupando di creare un turismo alternativo, non so se avete sentito in passato il progetto di zip line e di altre strutture, stiamo facendo una serie di eventi per cercare di portare il turismo ai prati di Tivo, ma nessuno ci aiuta per quanto riguarda gli impianti. Ora la situazione è in mano alla magistratura sulla quale possiamo fare poco, aspettiamo l'ennesima data, però di sicuro questa è un'immagine vergognosa, lo devo sottolineare, è una cosa vergognosa. Grazie.